Come è possibile che sia cascata nel tranello di una setta che abbia obbedito a ordini a volte assurdi? Perché può succedere a tutti, anche a te che stai leggendo, a tuo figlio, tua figlia, al tuo partner, ai tuoi genitori, i punti che tutti abbiamo nelle nostre fragilità, i nostri punti deboli, i nostri bisogni inespressi, le nostre paure. Grazie a tutti.